le novelle non sono le persone di regina che si occupano della gestione tecnica e della gestione ma anche persone che hanno lavorato un intercone di giù per l'arrestamento di tutta la scioglieria e anche persone che può lavorare sistemi di scioglieri ma certo di cui voglio portare tranquillamente allora sono Oscar Sardati, abbiamo un altro programma di rinuncio, un altro programma di rinuncio che è stato un altro programma di rinuncio, un altro programma di rinuncio, un altro programma di rinuncio si, ha avuto un po' di rinuncio, una moda, ecco questo era il particolare che mi era sfusato, voglio guardare qui si, questa bellissima 500 maggiore di rinuncio, la popolino, con una fisicosita, la rinuncio, una iranina conferma che si rinuncio la popolino, allora quindi anche la Vespa, tanto la Vespa sinceramente non lo so, perché non è che cosa credo che possa parte della macchina esatto, esatto, no, 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 no ma, non si rinuncio se non rinuncio non rinuncio se non rinuncio mentre per questa bellissima, bellissima auto, ma purtroppo non sono niente c'è un signore che viene a essere fengine, io che voglio rinunziare però, ecco, non rinuncio non rinuncio però, ecco, un poco, io, mi difendo tramite qualcuno che mi aiuta e mi fanno no, 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 assolutamente, si Sì, sono pronto, mi lo sento. Te lo faccio guardare, te lo faccio guardare. Assolutamente, possiamo andare? Possiamo andare? Sì, ma io non mi sento. Saranno dei night.